qui Peppo e ci troviamo adesso sul Corso Secondigliano proprio qui in questo posto è stata pensata, progettata e scattata la fotocopertina del mio ultimo album Mood Street eccola ci troviamo adesso sul Corso Secondigliano che è forse la strada principale di questa periferia o meglio forse è quella che subito ti fa pensare a Secondigliano cosa è Secondigliano o Corso Secondigliano? questa è la strada che collega il centro di Napoli con tutte le periferie dell'area nord infatti si passa per Capodichino, Secondigliano si può arrivare fino a Melito, Arzano, Sant'Antimo e diciamo che questa è la strada che collega il centro con l'Interland ed è la più famosa tra l'altro da qui si passa anche per arrivare al Bosco di Capodimonte grazie a tutti per l'attenzione grazie per avermi concesso questo spazio e per avermi fatto raccontare la mia periferia grazie quindi a sti turisti della tua città e qui per po', aria nord da mu buco! buco! grazie a tutti! grazie a tutti!